innamorarsi a milano è un evento dedicato a quei soggetti che percorrono milano e che vediamo spesso nelle strade milanesi ma con cui non abbiamo spesso la possibilità di dialogare e di cui non conosciamo sempre le storie le sfaccettature innamorarsi a milano racconta una città che è sempre più multietnica multiculturale in cui è normale che coppie provenienti da diversi background culturali e etnici si incontrino e intrecino relazioni innamorarsi a milano serve a raccontare queste relazioni a capire come questi soggetti si pongono nei confronti della città di milano come la vivano e come e come vivano la propria relazione rispetto alle proprie culture di origine la città delle donne non si ferma noi rimandiamo ma rimaniamo seguiteci sui nostri canali social grazie a tutti